Perché i giochi droga sono a tutti gli effetti considerati una droga? E non solo dai videogiocatori, ma proprio dai dottori, dalle persone, dal personale del settore, da tutti quelli che hanno a che fare con l'industria videoludica, che sia essa mobile o meno. In tempi recenti, e per tempi recenti parlo degli ultimi dieci anni in pratica, non si fa altro che cercare di editare l'industria videoludica come il male peggiore di quello che succede nel mondo. Si dà la colpa ai videogiochi per le sparatorie, si dà la colpa ai videogiochi per la disattenzione, i brutti voti a scuola, il comportamento violento, insomma, si dà la colpa ai videogiochi. Videogiochi del tempo sono diventati anche proprio un media per poter trasmettere non solo emozioni, ma anche flussi di denaro in gente. E oggigiorno abbiamo quelli che sono considerati tuttora i giochi evergreen, da un punto di vista sia di pubblico che da un punto di vista monetario. Un indice di interesse da parte del pubblico lo possiamo riscontrare in quelle che sono le piattaforme di live streaming. Piattaforme che, soprattutto negli anni del covid, hanno decretato letteralmente un cambio drastico della percezione di quello che è il contenuto principale. Quindi non si tratta più del mero e semplice videogioco, ma anche dell'intrattenimento che quel videogioco può portare a sé, sia da un punto di vista di content creator che da un punto di vista di pubblico. Ecco quindi che abbiamo il pubblico che vuole giocare a quel gioco, ma ancora non sa se a tutti gli effetti potrà rientrare nella propria quotidianità, forse per le ore che quel gioco richiede per essere completato, forse per la difficoltà che quel gioco presenta. Ed è questo che gli sviluppatori di videogiochi cercano di tenere a mente oggigiorno. Vi faccio anche un esempio. Anni fa, con il lancio del Wii o della Wii, insomma, non so mai come chiamarla, Nintendo spese veramente una barca di soldi per delle ricerche di mercato, per capire a tutti gli effetti cosa mancasse all'interno di un settore che sembrava già sovrappopolato. Ecco quindi che Nintendo ne esce fuori con qualcosa per cui tutti ridevano, tutti la prendevano in giro e dicerano, ma va, ma che cosa diavolo stai facendo? Stai veramente investendo in un settore che alla fine è composto da persone che giocano a Call of Duty? È male che vada a Mario e compagnia? Sì. E Nintendo scoprì quindi un anello mancante, un anello di congiunzione, spesso volentieri bistrattato, e cioè quello della famiglia. Focco quindi che Wii, grazie a una spesa esosa e a una scommessa da tutti i visti come fallimentare, ha letteralmente cambiato il mercato. E questo, da un punto di vista hardware, e sì, poi anche software, ci serve anche a capire il comportamento di quelli che sono gli aspetti fondamentali per catturare l'attenzione di un videogiocatore. Oggigiorno, se guardiamo le classifiche di Twitch, ad esempio, possiamo vedere come in testa ci siano sempre i soliti giochi, tranne qualche rara eccezione. Ma se ci dovessimo davvero guardare alle spalle e guardare a tutti gli effetti a quelli che stanno nell'Olimpo, nel Gotha, dei videogiochi più giocati, abbiamo giochi che spesso e volentieri sono estremamente adattati. E infatti, ecco che rispuntano i classici Minecraft, Counter Strike, World of Warcraft, Dota 2, League of Legends, e per i più recenti invece abbiamo titoli come Valorant, Grand Theft Auto 5, perché sì, cavolo, sono passati dieci anni, eppure è considerabile recente, Apex Legends, Fortnite e Warzone. E tutti questi giochi hanno in comune dei fattori ben specifici, dei fattori che possono essere visti in maniera sia positiva che negativa. Questo anche per ricondurci a quello che era il discorso fatto all'inizio di questo video. Quindi è come pensare a una torta, a una torta multistrato. All'inizio si pensa semplicemente al videogioco, basti pensare che Counter Strike è nato, come dicevo anche in un video precedente che vi faccio trovare tipo qua sopra, come una mod di Half-Life, e poi oggigiorno c'è letteralmente un mercato dietro a Counter Strike. Questi giochi vengono composti ormai quasi come se fossero, ripeto, una torta a strati. Una torta che parte da quello che è proprio il videogioco, la base, lo scheletro. E poi sopra abbiamo una stratificazione di strategie di mercato. E io, attenzione, sto parlando di quelli che sono giochi competitivi, perché dall'altro lato abbiamo i mobile e i gaccia. Titoli come Genshin Impact, il nuovissimo Honkai Star Rail, sono giochi che fanno della monetizzazione un protagonista nemmeno troppo silenzioso. Un quadro abbastanza generale di quello che è il comportamento del mercato videoludico. Tra gli aspetti principali che possiamo ritrovare in giochi che sono considerabili ormai degli evergreen, quasi per forza, più che per merito, sono da ricercare in quello che è l'aspetto competitivo, in quello che è l'aspetto di sfida, in quello che è l'aspetto del costo e risultato. Per il giocatore, attenzione, una sfida in una partita di League of Legends può essere combattuta per poi essere vinta e rilasciare quella dopamina che tanto fa venire voglia di premere nuovamente play. Ma quanti aspetti positivi e negativi ci sono in questa cosa? Ce ne sono parecchi, ragazzi, ok? Quindi per coloro che possono spendere tanto tempo vi diranno che quello che stanno facendo, l'investimento di tempo, basti pensare a un giocatore magari di World of Warcraft, è qualcosa di sano e giusto, mentre altre persone che non riescono magari a spendere molto tempo appresso a questo genere di videogiochi vi diranno che non ne vale la pena. Ma analizziamo un pochino più a fondo questi aspetti, quindi in che direzione stiamo andando. Anche in questo caso dipende da dove la si guarda. I punti positivi per il giocatore sono anche parte di quelle cose che abbiamo detto poc'anzi, quindi la reward, magari riuscire a ottenere un oggetto raro che tanto si stava cercando, prendendo giochi magari come gli MMO, o punto titoli. Prendiamo l'esempio Ark, dove magari quell'oggetto riesce a ottenerlo dopo che hai visitato tanta volte quell'isola all'interno di tre mesi, ti ha quel riscatto, quella sorta di yuhuu, ce l'ho fatta, e così via, che permette al giocatore quindi di rimanere nel loop del videogioco. D'altra parte, invece, abbiamo la componente positiva per le aziende, quindi mantenere il videogiocatore all'interno del proprio videogioco. Questo lo potete notare anche da pratiche abbastanza comuni, sia nei gacha che nei titoli tripla, ma soprattutto nei free-to-play, eh, sia chiaro. Quotidianamente, quando entrate, avete una ricompensa solo perché avete avuto accesso al gioco. Permettono alla Casa di Sviluppo di avere un costante flusso di videogiocatori. Spesso e volentieri ci dimentichiamo di quanto i videogiocatori possano far formare anche amicizie, coppie e così via, soprattutto nei giochi dove è necessaria la comunicazione in team. Mentre ecco, League of Legends, anche lì, viene richiesto l'utilizzo di un team, soprattutto per le ranked. È qui dov'è la ricerca della soddisfazione del giocatore. Vincere più round possibili per poter vedere quel dannato stemma andare in una categoria superiore. In titoli come World of Warcraft, magari sconfiggere quel maledetto boss che richiede la coordinazione di 80 persone per ottenere, no, so, una spada unica. Così come in Destiny 2, ne abbiamo a PZF. Ma oggigiorno, nel mondo della comunicazione, nel mondo della percezione, quali sono i titoli che più riescono in questo aspetto? Sono i titoli che sono capaci di entrare nelle case di più o meno tutti, quindi quei titoli nemmeno troppo esosi di risorse, che però possono essere giocati da chiunque. È un po' come il calcio. Il calcio magari può non piacere a tutti, ma tutti possono giocarlo, e tutti in qualche modo sanno giocarlo. Sarà perché le regole sono semplici, sarà perché un pallone bene o male è accessibile a tutti. Però ecco quindi che abbiamo in classifica tanti titoli FPS, quanti altri MOBA, ad esempio, giochi di carte, e i cosiddetti gacha, che, nel caso di Genshin Impact, sono degli action RPG. Sono comunque giochi che possono girare su tante macchine, addirittura, pensate un po', giochi come Genshin Impact possono condividere l'account tra mobile e PC, garantendo così un flusso costante di azioni da parte del videogiocatore. E poi abbiamo l'immenso mercato mobile, un mercato che noi giocatori di console e PC cerchiamo di non vedere, come se non esistesse, ma in realtà, credetemi, esiste come. Esiste così tanto da poter coprire da solo tutto il mercato PC e console. Questa è una cosa che fa riflettere. Pensate un po' che l'industria videoludica, oggigiorno è più forte anche dell'industria cinematografica, per un giro di circa 5 miliardi l'anno. Ma in tutto questo non dimentichiamoci una cosa, che se dovessimo guardare il minimo comune denominatore, e magari prendere in considerazione i dati delle piattaforme di streaming, che sono comunque un indice abbastanza interessante per capire dove va il trend, al primo posto c'è più o meno sempre la chiacchiera. Quindi videogiochi a parte, reward a parte, dopamina a parte, quello che la gente ricerca è la comunicazione. Infatti su Twitch Just Chatting è quasi sempre in top alle classifiche. Questo perché oggigiorno le persone hanno bisogno di comunicare, di confrontarsi, essere magari anche rassicurate. Trovare modo di cercare conferma delle proprie opinioni, confrontarsi con il prossimo, cercare di capire i punti di vista per farsene uno proprio. Ed è anche così che le case di sviluppo spesso riescono a ingaggiare i videogiocatori nel fidarsi su quello che sarà il prossimo titolo d'uscita, ultimamente deludendo spesso le aspettative. Ecco quindi che si crea un loop perfetto per ingaggiare il videogiocatore ore, ore, ore all'interno del proprio gioco. Una lotta continua fatta a metà strada tra case di sviluppo che vorrebbero trovare la formula del successo e del guadagno facile, e videogiocatori che sono in cerca sempre di una nuova sfida. E secondo voi, quali sono i titoli evergreen in questo caso? Fatemelo sapere.